La provincia di Lucca ha affidato gli interventi di adeguamento sismico messa in sicurezza ed efficientamento energetico del corpo palestra dell'Istituto Tecnico Economico Carrara di Lucca. Il complesso scolastico sulla circonvallazione, che risale alla seconda metà degli anni 50, è già stato oggetto di numerosi interventi da parte della provincia. Ora l'ente di Palazzo Ducale procederà a riqualificare la palestra di cui era già stata rifatta la copertura. Gran parte dei fondi per riqualificare l'impianto sportivo è stata ottenuta attraverso la candidatura ai bandi del PNRR e da cui la provincia ha ottenuto un investimento di 1 milione e 600 mila euro. A questi si aggiungono 163 mila euro di contributo GSE, gestore dei servizi energetici, 489 mila euro finanziati con FOI, fondi opere indifferibili, e circa 1 milione e 200 mila euro tramite mutuo per un quadro economico complessivo di circa 3 milioni e mezzo di euro. Il cantiere sarà aperto nelle prossime settimane e i lavori, come da capitolato d'appalto, dureranno circa un anno.